Polimer presenta Corrispondenza immaginaria di Franca Valeri Giovane Alta Tesino mi scrive e acclude una sua foto La mia fidanzata mi ha abbandonato prima di rendere ufficiale il suo impegno a causa di un mio rovescio finanziario Di carattere fiero soffro ma vorrei dimenticarla Ti risponderò mio caro con l'inesauribile pensiero di Laurent Foucault Il piacere dell'amore sta nell'amare, dà più felicità alla passione che si prova di quella che si destra negli altri Se poi come tutti i giovani di oggi preferisci affidarsi alla scienza che al pensiero Il dottor Kruger di Berlino e il dottor Fisher di Londra sono in grado di offrirti qualsiasi operazione di plastica facciale Bonne chance Ed ora un rapido consiglio a Piccolo Lord di Solviate Olona mi scrive Sono diventato ricchissimo col mio lavoro, mi sono costruita una villa tutta di marmo uguale all'acca d'oro Vesto sempre in divisa come lo scia eppure non riesco a sembrare distinto certamente Comincia col sostituire subito le tue divise con abiti tipo pastore protestante Per intenderci scuri, colli alti, giacche lunghe Acquisterai subito una stalla vicino alla tua villa In modo che ogni giorno passando davanti alla tua cadoro con amici Tu possa sgnazzare della saffoneria del proprietario che dirai di non conoscere Arriva bizzarramente la tua stalla in modo di trasformarla in una specie di museo E getta distrettamente su ogni letto degli splendidi plates movil Caldi, resistenti e assolutamente anglosassano Plates movil Leggeri, soffici, caldi Per la casa Per le gite Per l'auto Con la fibra movil si confezionano maglie, tendaggi, fiocco per materassi, coperte e plaid Movil, marchio di qualità Acquistate con fiducia prodotti movil